Tutto molto felice nel team, veramente complimenti al short team, al design team, allo velista che veramente hanno providenziato quattro regatta fantastica, credo che merecido i risultati, alla fine abbiamo lavorato tanti per migliorare la barca, credo che i risultati è un frutto di quello e molto contenti oggi, veramente. Sicuramente in questi ultimi dieci giorni abbiamo lavorato tanto, come ho detto, tanto nella parte di mecatronica, tanto con lo foils, tutto in generale, migliorando la barca, come portare la barca e credo che abbiamo veramente riuscito a portarla bene, arrivando sempre di più, spingendo di più e penso che siamo pronti per la revanche contro l'inglese. Sì, veramente quello, abbiamo lavorato tanto giustamente in queste range di vento, che era, non sentivamo un po', non con il top della velocità, ma avevamo tutti gli strumenti, tutti i materiali, anche a livello di design e di sviluppo che si è fatto, tutto il team, un grosso team di veramente persone molto brave, hanno lavorato in questo stesso tempo, arrivare a un risultato e avere oggi un tool che permette a noi di difendersi in tutto il range di vento. Dopo di arrivare la barca già in terra, ricomincia il lavoro. La Coppa America non è facile, è molto difficile, è una gara molto difficile, ha molto poco tempo e molto poca regata per dimostrare la capacità del team. Credo che abbiamo reagito bene e sono oltre alla migliore ora alla finale della Prada, molto contento di arrivare e di essere possibile con tutto il grande team che abbiamo, abbiamo lavorato questi ultimi tre anni e mezzo duramente tutti noi. Complimenti a tutti.